Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa di Fano TV che come sempre inizia la giornata insieme a voi. Sono pronti i giornali, quelli che troveremo naturalmente in edicola questa mattina, ma prima di tutto alle previsioni del tempo e il santo del giorno. Vediamo che santo è oggi, sabato quattro giorno, su San Filippo Smaldone, sacerdote, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.46. Partiamo con i dati della nostra centralina per vedere che tempo fa in questa giornata e partiamo subito con temperature al di sopra della media, vedete alle 7.53 c'erano più di 19 gradi e un'umidità importante, il 79%. Questa è la foto che ci manda, lo scatto che ci manda la nostra webcam, vedete il cielo completamente coperto da nubi e queste sono le previsioni per oggi, per sabato, la protezione civile Marche, vedete cielo parzialmente nuvoloso con maggiore nuvolosità nelle ore centrali, ma schiarite in serata, però compaiono le piogge come vedete, rovesci e temporali sparsi, le temperature sono in aumento. Domani e domenica non cambia molto il quadro, forse vengono un po' meno le piogge, però il cielo rimarrà nuvoloso e maggiori addensamenti nelle ore centrali della giornata, rovesci e temporali sparsi, però più che altro nelle zone interne. Lunedì 6 giugno il cielo migliora un po' dal punto di vista della nuvolosità, sarà poco o al più parzialmente nuvoloso, precipitazioni ci sono riportate, però come vedete nella parte bassa delle Marche. Insomma queste sono le previsioni del tempo per il fine settimana che sicuramente non si preannunciano, almeno sotto i migliori auspici. Vediamo subito le pagine dei giornali, partiamo dal resto del Carlino di Pesaro che porta in apertura la vincita dei campionati di giornalismo da parte dei ragazzi della media Olivieri di Pesaro, cronisti campioni, quindi questi giornalisti in erba, secondi sono arrivati i ragazzi del Marco Polo di Lucrezia e terza la nuova scuola di Pesaro, ma comunque è un successo per tutti. Vedete in questa pagina iniziale alcune foto delle tre scuole vincitrici, però nelle pagine 4 e 5 all'interno troverete tutte le foto di questi ragazzi che hanno partecipato. Poi in testa la vincita all'otto finisce in procuro, un'altra notizia che trovate a pagina 3, un cliente accusa la commessa di aver incassato 122 mila euro. La pagina però seguente dell'inserto del Carlino parla di cronaca e di furti con destrezza, possiamo dire, perché assalta il service col piccone ed una canna, il modus operandi è quello del pescatore, perché questo malvivente si è portato dietro una canna con il biadesivo in cima, con la quale ha tirato fuori tutte le banconote fino a raggiungere la cifra ragguardevole di 1.315 euro. Frequenti colpi in questo ambito, 10 soltanto negli ultimi mesi a Pesaro. Vedete qui nella foto delle telecamere di videosorveglianza, appunto, il ladro all'opera con il piccone e con la canna con la quale ha estratto i soldi. Si parla anche di Banca delle Marche, del CRAC, la commissione che doveva appunto, la commissione di indagine in regione su Banca Marche, dopo le audizioni, una tempesta perfetta di errori. Ecco perché si poteva salvare. Il dossier della commissione di indagine denuncia un danno da 400 milioni. Appunto, questa è la commissione, insieme a Mirko Carloni, capogruppo di area popolare e gli altri componenti. Ora, un appello al Premier Renzi è stato inviato e dicono appunto, l'auspicio adesso è che si possa recuperare qualcosa per i risparmiatori. Andiamo nelle pagine di Fano, del resto del Carlino, che riporta una notizia che troviamo un po' in tutte e tre le testate, Carlino Corriere e Messaggero. Il fotografo, il fotografo Guardone, come vedete così nella foto in alto, la metodica che effettuava per scattare queste fotografie, il guardone ai poliziotti ha detto non ditelo a mia moglie, attendeva anche ore per un click giusto, denunciato per molestie e violazione della privacy nel suo cellulare, cartelle criptate con foto di una decina di appunto fondoschiena, vestiti prescelti, erano le minigonne per effettuare questi scatti. E poi nella vignetta simpatica di Giombetti vedete il gioco di parole, attenti al guardrone. L'altra pagina del resto del Carlino parla di una manifestazione che si terrà fra pochi giorni, nel fine settimana della settimana entrante, ed è Sapori e Motori, che coniuga la passione dei motori, quindi moto, auto e quant'altro, con il buon cibo e con gli show. Quindi show al mare per sapori e motori, ricco il programma, auto d'epoca, test drive, quindi si potranno provare moto e auto, e tipicità anche gastronomiche. E dice il suo patron, Giampiero Pedini, abbiamo voluto elevare il livello con decine di stand che presentano birre di qualità, carni scelte, tutto fino a tarda notte. E quindi questa è la presentazione di questa manifestazione che riempirà la zona della Sassonia il prossimo fine settimana. Siamo a Pesaro col Corriere Adriatico, si parla di crisi del settore immobiliare, timidi segnali di ripresa, il valore degli alloggi è crollato di un terzo nelle periferie, seconde case bloccate dalle tasse e poi ladri alla erga, anche qui in questo distributore, le banconote sono state aspirate con un aspirapolvere. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, si parla di servizi sociali e quindi le sigle sindacali riunite sono contro una riorganizzazione centralizzata e burocratica, incontri a Cagli e Macerata-Feltria, più risorse per i servizi esenziali, si parla appunto di sanità bollente. E poi in testa di pagina si parla di politica, le prossime amministrative, Fermignano, confronto tra i cinque candidati e dall'esito incerto. Ancora, si parla anche qui, come vi ho annunciato, degli scatti proibiti nella pagina di Fano del Corriere Adriatico, scatti proibiti alle donne che fanno la spesa, molestatore seriale scoperto dalla Ocean, fotografava le vittime, posizionando il telefonino sotto la gonna. E poi in fondo alla pagina troverete anche qualcosa che riguarda l'aeroporto, c'è stato un incontro tra il viceministro Nencini e il sindaco Massimo Seri, ora si riparte da questa situazione per eventuale incontro con l'Enac per trovare i fondi per la pista in asfalto. Si confronta appunto Seri col viceministro, ma si è parlato anche della questione dell'ospedale unico. Sulle pagine del Corriere Adriatico si parla anche di una azione che è stata interpresa dai consiglieri di minoranza sulle rette ai disabili e si dice no in maniera unitaria a questo aumento. Le minoranze presentano una delibera per stornare 200 mila euro dal capitolo di spesa delle risorse del personale e rigirarli appunto sui servizi ai disabili. La ritroviamo anche in un'altra pagina questa notizia, intanto vi faccio vedere da Senigallia che cosa avviene in questi giorni per appunto la riapertura dei bar, dei esercizi commerciali votati alla stagione turistica, i stabilimenti balneari riaprono e naturalmente ripartono anche i controlli da parte delle autorità permessi non in regola. sono stati chiusi tre bar, multe per alcuni gazebo abusivi, nei quali gli stabilimenti balneari che si sono allargati troppo. Ce la farò. Semaforo in tilt, incidenti a catena, parliamo di un semaforo lungo la nazionale che da 15 giorni non funziona, si eleva il coro di proteste anche perché è causa questo di incidenti a catena che si stanno verificando proprio nella statale. e ancora nelle pagine del messaggero cambiamo testata, si parla di tramonto, tramonto show, Pesaro e Ancona unite, segnali di distensione, Vimini dice basta litigare, facciamo promozione comune per diffondere l'unicità del fenomeno sull'Adriatico. e questa era la notizia che troviamo anche nella pagina di apertura dell'inserto del messaggero, dell'inserto del quotidiano romano, tramonto, facciamo la pace. Vimini stempera gli attriti con il PD Dorico e invita Ancona a lavorare con Pesaro. e nella fotonotizia della pagina di apertura dell'inserto vediamo una bella foto con i ragazzi della Polloni di Fano all'opera che portano avanti il loro murales nel sottopasso della stazione fra pochi giorni, fra poche ore possiamo dire, sarà pronto, si potrà vedere l'opera di questi ragazzi. e poi l'Adi al distributore Erg, appunto anche qui riportata questa notizia, soldi risucchiati con l'aspirapolvere è avvenuto nella notte nell'impianto ubicato in via Frati e poi una messa in ricordo di Andrea Ferri. Si parla anche di lavoro e di crisi e di che cosa fare per affrontarla. Nelle pagine del messaggero a parlare è Simona Ricci della CGL, rivolge questo appello a istituzioni, imprese, associazioni di categoria con un modello a cui ispirarsi. Il comune di Pesaro, ora che non c'è più la provincia, può mettere insieme le forze sociali e quelle produttive. Questo è il suo appello, le sue considerazioni, perché dice non c'è più tempo e la crisi si può battere solamente se siamo uniti. Queste sono le parole di Simona Ricci. Vediamo l'ultima pagina che vi faccio vedere, quella di Fano, del messaggero. Anche qui scatti rubati agli slip delle donne, preso il voyeur dei supermercati. La polizia lo ha denunciato per molestie nel cellulare. Trovate numerosissime immagini. E poi anche qui si parla dei servizi sociali. Naturalmente oltre all'iniziativa dei consiglieri di minoranza c'è quella dei servizi sociali e dell'assessore Barniesi che dice appunto prima di mettere mano alle tasche le rette verranno congelate per tutta l'estate. Se ne riparla a settembre. Fino a settembre, dice appunto l'assessore Barniesi, non ci saranno ritocchi alle tariffe. Vogliamo vedere i modelli ISEE per valutare tutte le situazioni. E poi in fondo alla pagina vi faccio vedere appunto anche qui i murales dell'Apolloni riqualificano il sottopasso e gli studenti del liceo artistico sono al lavoro anche in queste ore, anche in questi momenti, per ridare nuova grafica, nuova vita a un sottopasso grigio di cemento. Invece loro portano i colori e la loro fantasia. Bene. L'ultima pagina era questa. Quindi buon lavoro ragazzi, insomma, che state così colorando un po' uno spazio anonimo e grigio della stazione. Bene. Termina la rassegna stampa. Occhio e giornali finisce qui. Torna naturalmente lunedì mattina puntualmente alle 7.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana, tempo permettendo. Arrivederci, alla prossima. Grazie a tutti.